Allora, Edoardo, un 1-1 come lo prendete? L'avversario era di quelli sicuramente forti e importanti, però c'è l'impressione che siano lasciati due punti qua all'arena. Sì, sicuramente loro sono una delle squadre più attrazzate del campionato, però dal mio punto di vista oggi meritavamo i tre punti. Sono due punti lasciati, però speriamo di recuperarli presto facendo altri punti importanti su campi anche fuori dall'arena. L'episodio del gol di Schofani? L'episodio c'è stato, io ormai ero sulla traiettoria della palla e non sono riuscito a spostarmi in tempo e quindi non gli ho dato un gran colpo di testa, è rimasta lì. E poi è rimasta lì la palla, è stato bravo lui. Anche dal punto di vista fisico è stata una partita molto dura? Sì, sicuramente, perché c'era stato da correre, da lottare, però stiamo bene, il gruppo è compatto, speriamo bene. Grazie.